Fondazione Città della Speranza Siamo qui con il Presidente Stavamo prima parlando di fare un esempio un parallelismo per capire l'importanza dei finanziamenti e quanto sono valsi durante il periodo del Covid C'è un messaggio che è arrivato La Città della Speranza è un vero orgoglio veneto di cui faccio parte anche io ogni anno con la mia donazione bravi Giovanni Davide Verona ci scrive Quindi ringraziamo il signor Giovanni che contribuisce in modo importante dopo parliamo anche della trasparenza durante il Covid abbiamo visto la differenza di avere e non avere finanziamenti per i vaccini Ognuno può pensarla come vuole però con il Covid abbiamo visto in quanto poco tempo avendo masse di denaro incredibili abbiamo avuto i vaccini e non uno ne abbiamo avuti 4-5 a disposizione ed è uguale cioè la ricerca è fatta e la ricerca di alto livello è fatta con tanti soldi considerate che se noi parliamo di oncoematologia pediatrica parliamo di malattie rare e quindi le malattie rare sono poco attraenti per quella che può essere l'industria farmaceutica l'attrattività può venire però da ricerche di alto livello che possono dare una risposta e che hanno poi una ricaduta anche mediatica importante quindi per noi è fondamentale quello perché poi quando parliamo di bambini e qui veniamo anche al ragionamento sulla trasparenza allora per noi la trasparenza è d'obbligo cioè noi non esiste una donazione che non abbia una ricevuta che non abbia un riscontro un ringraziamento perché crediamo che è l'unico modo di essere credibili la fondazione è su base volontaria cioè gli organi della fondazione sono tutti su base volontaria chi prende soldi o rimborsi spese sono i dipendenti noi abbiamo costi amministrativi quindi di gestione della fondazione tra il 2 e 2,5% voglio dire le grandi fondazioni quelle a livello mondiale credo che arriviamo sul 30-40% insomma questi sono le differenze ma è corretto se una persona decide di donare come il signor Giovanni io non so quanto dona ma supponiamo che abbia donato un euro lui deve sapere che 98 centesimi vanno per lo scopo che lui ha dato perché è solo 2% che serve per mandare avanti la macchina organizzativa che poi è centrata sulla trasparenza questo è per noi il motivo più importante ed orgoglio del lavoro che è stato fatto perché quello è quello che conta ci sono delle certificazioni a questo riguardo? noi abbiamo bilanci con i sindaci che controllano adesso è da tre anni che facciamo anche il bilancio sociale in cui è descritta ancora meglio tutta l'attività tanto per farle un esempio che a me sta molto a cuore da qualche anno noi a Natale noi facciamo è un momento molto importante ovviamente per la raccolta non solo per la fondazione ma per tutte le charity offriamo i panettoni oltre che i cesti natalizi quest'anno siamo arrivati quasi a 70.000 panettoni che le persone hanno acquistato hanno donato qualcosa per la fondazione bene per fare tutti i cesti vengono dei volontari nella nostra sede di Malo e noi abbiamo calcolato le ore di volontariato destinate lo riporteremo anche nel nostro bilancio sociale quindi sono persone che sono in pensione o che hanno la mezza giornata fanno tutta questa attività e hanno di fatto donato con le loro mani con le loro attività più di quasi 40.000 euro di ore lavorate ecco questo è quello perché ognuno fa quello che può uno dona un'ora uno dona un euro uno ne dona mille uno ne dona 100.000 abbiamo avuto anche donazioni molto importanti assolutamente ecco la cosa importante perché tanti sono città della speranza fondazione nel Vicentino perché è nata lì perché lì c'è una sede logistica sostanzialmente però la ricerca si fa a Padova nel torre della città della speranza sì per noi non esiste il campanile cioè il campanile non c'è c'è un bambino allora siccome il bambino non ha razza non ha colore non ha stato sociale per fortuna finché sono bambini siamo ancora tutti d'accordo su questo e la fondazione è nata a Vicenza perché per gli episodi e per l'episodio che è stato scatenante per la nascita della fondazione ha ancora la sede lì ma dov'è la migliore università e il migliore centro di cura e quindi si fa dove dove serve però il nostro grande sforzo in questo momento è quello di portare la fondazione oltre al territorio nostro insomma che sia Vicenza Padova Treviso Veneto in generale noi visto il livello che c'è a livello scientifico noi abbiamo l'obbligo di arrivare a livello nazionale del resto già ci siamo in parte però bisogna fare di più anche grazie a voi anche grazie alla possibilità di trasmettere come sempre i più belli esempi di solidarietà arrivano dai privati ma allora io devo dire che la fondazione ha sempre avuto una mano da tutte le amministrazioni siano comunali provinciali regionali dove noi abbiamo chiesto abbiamo ricevuto sicuramente una charity sicuramente devo dire che i finanziamenti sono arrivati praticamente tutti dai privati c'è stata la regione del Veneto che quando abbiamo costruito la torre ha acquistato un piano e mezzo e l'ha dato in comodato alla fondazione quindi lì abbiamo avuto una donazione di 3 milioni che non è stata una donazione è stato un investimento della regione del Veneto per il resto i fondi arrivano praticamente completamente dai privati però ad esempio abbiamo quasi 200 comuni gemellati è una cosa se voi passate chi va in macchina vede spesso il logo della città della speranza è diventato un brand molto conosciuto anche grazie a questo tutti i comuni gemellati i comuni si prendono un impegno o si dovrebbero prendere un impegno poi insomma bisogna sempre comunque un po' inseguirli perché quando cambia l'amministrazione bisognerebbe rinnovare l'impegno che è quello della trasparenza noi chiediamo ai comuni di pubblicare il bilanci delle charity che sono nel territorio chiediamo ai comuni di fare divulgazione nelle scuole e ci rendiamo molto disponibili a questo devo dire che i nostri ricercatori noi apriamo molto spesso le porte dell'istituto di ricerca per chi vuole visitarlo e diamo la disponibilità e la otteniamo dai ricercatori per andare nelle scuole o dove serve a divulgare a far capire cosa fa il lavoro di lavoro del ricercatore molto spesso il ricercatore lo vediamo come un qualcosa di incredibile lì in un laboratorio ed è importante per noi e per il ricercatore importante per il cittadino perché ha la possibilità di toccare con mano quello che fa un ricercatore ed è importante per il ricercatore incontrare i cittadini che donano e gli permettono di fare le loro ricerche è un ricercatore in questo ambito in modo particolare ci sono molti giovani o avete bisogno ancora di persone state cercando qual è la situazione intanto sono ricercatori universitari fondamentalmente mi viene a dire ricercatrice molto donna il lavoro all'interno dell'istituto di ricerca credo che il 90% dei ricercatori sono donne ricercali i più bravi vengono attratti dalla qualità delle ricerche che vengono fatte se tu dai la possibilità di avere progetti di ricerca finanziati poi possono applicare quelli che hanno delle valutazioni scientifiche alte la fondazione resta fuori dalla valutazione scientifica non entra mai ah resta fuori dalla valutazione certo perché oggi tanto per dire il direttore scientifico oggi dell'istituto di ricerca pediatrica è il professor Baraldi che è anche il direttore del dipartimento di salute donna del bambino per far vedere proprio questa grande connessione che c'è poi c'è un scientific advisory board quindi quando la modalità riavvolgendo un po' il nastro la modalità di finanziare la ricerca può avvenire o con fondi universitari o con fondi che vengono su bandi che vengono vinti ad esempio AIRC ci sono più Teleton i ricercatori applicano e se fanno un buon progetto vengono finanziati ma la gran parte è in questi dieci anni è venuta grazie alla fondazione Cariparo che ha dato a disposizione un milione di euro all'anno per l'attività di ricerca e alla fondazione Città della Speranza che fa praticamente altrettanto solo per l'attività di ricerca più tutti i fondi che servono a gestire poi la torre c'è una torre a riscaldamento tutta la parte energetica in cui i ricercatori non pagano non pagano un euro di affitto loro per avere quegli spazi e non è poco visto anche le ultime crisi energetiche che abbiamo avuto pensate quanti soldi in meno abbiamo potuto destinare la ricerca a causa di questa crisi energetica però ci vogliono quello è quindi applicano noi non giudichiamo c'è un Scientific Advisory Board nazionale che viene definito generalmente dal direttore scientifico che giudica i progetti e i migliori hanno il finanziamento per i tre anni successivi questo è importantissimo stavo pensando una cosa lei citato Teleton e AIRC spieghi bene questo passaggio ai nostri tre spettatori significa che ci sono altre fondazioni associazioni anche Umberto Veronesi ad esempio a livello nazionale a livello nazionale o internazionale perché poi si vincono anche a livello internazionale internazionale per dire c'è stato un progetto messo in cui i fondi sono arrivati dalla Iust cioè ci sono anche enti privati che decidono di fare dei bandi a livello nazionale a cui possono applicare i ricercatori applicano anche quelli che sono nell'istituto di ricerca pediatrica e vincono e vincono perché sono bravi evidentemente e quindi i migliori vincono e quindi possono avere la possibilità di avere dei fondi che arrivano dall'AIRC da Teleton da Umberto Veronesi o da istituzioni private e ci sono anche case farmaceutiche che fanno bandi e a volte vengono vinti dai ricercatori ma le patologie qua entriamo un po' nel merito medico per cui non so se è appropriato porre a lei questa domanda un po' viene una curiosità ma le patologie proprio perché ne parlavo ieri con il professore Baraldi e mi è venuta la domanda non si nasce malati per lo più si diventa malati ho fatto questa osservazione mi ha colpito perché tante volte vengono a pensare bambini malati oncomatologici eccetera tu pensi nasca così in realtà in molti casi i bambini si ammalano anche nel corso della loro età ma la patologia non è la stessa dell'adulto per quel che ne sa lei leggo anche il messaggio oltre a 5 per 1000 come posso essere attivo per la fondazione chi cercate grazie rispondiamo dopo assolutamente certo allora un bambino non è un adulto in miniatura questa è una definizione che tutti possono capire ha delle allora intanto ci sono delle patologie tipiche dell'età pediatrica e delle patologie che non sono tipiche dell'età pediatrica o più dell'adulta e quindi sono due mondi che sono diversi da questo punto di vista ma con delle ovvie connessioni quindi la ricerca pediatrica è tipica per alcune per alcune cose insomma questo vale un po' per tutto cioè io soprattutto se parliamo di oncologia ci sono dei tumori tipici dell'età pediatrica che però sono estremamente pericolosi purtroppo ah beh sì consideri che comunque a fronte di una cura che oggi è arrivata una sopravvivenza purtroppo c'è questo termine che non è così bello ma va usato ed è un termine scientifico siamo all'80 85% vuol dire che sui 150 bambini che si ammalano tutti gli anni nella nostra regione e parlo di regione in Italia sono circa 1500 più o meno un 20% non ce la fa 20% di 150 sono 30 bambini sono una classe intera di quelle numerose che non ha la possibilità di diventare adulta però molti vengono da fuori essendo Padova un punto di riferimento nazionale credo che i punti di riferimento nazionali per queste malattie sono 3-4 c'è Padova c'è il bambino Gesù c'è Monza c'è Gaslini di Genova per cui è ovvio che attraggono anche coloro che vogliono che vogliono cercare delle cure avere una speranza assolutamente rispondiamo anche al messaggio quali sono le modalità con cui può essere dato un aiuto perché al di là del 5 per 1000 che è previsto oppure la donazione ci sono i numeri per il bonifico eccetera che tipo di figure avete bisogno anche figure professionali hai parlato di volontari oppure anche di parliamo di questo sì beh allora la parte di volontariato si esplica poi in mille modi con la possibilità di fare i banchetti di essere utili magari nella sede più centrale di Malo quando c'è la Pasqua e il Natale soprattutto viene fatto molto la raccolta fondi in generale però noi abbiamo abbiamo tante possibilità poi ognuno fa quello che riesce basta contattare la nostra segreteria e lì possono dare tutte le istruzioni del caso considerate che pre-covid adesso cominciamo a tornare ai valori del pre-covid ovvero tra le 3 e le 400 manifestazioni nel territorio che vengono fatte per raccogliere fondi per la fondazione sono tantissime sono tantissime noi le autorizziamo tutte vengono autorizzate dalla segreteria in modo tale che noi possiamo poi fare anche la rendicontazione e pubblicare in quella in quella manifestazione quanti soldi sono stati raccolti come è che vengono organizzate spontaneamente non è la fondazione che le organizza la fondazione potrebbe essere la famiglia di un bambino ricoverato esatto un asilo la scuola elementare che decide di farlo il Lions Club la squadra sportiva i musicisti noi ne abbiamo di tutti i tipi chiunque vuole fare qualcosa organizza noi gli diamo tutto il materiale gli diamo una mano nella comprensione di quello che si può fare di quello che non si può fare e se è possibile c'è un nostro referente che è a disposizione anche magari per andare a parlare nel momento in cui c'è l'evento c'è la recita scolastica quello che è e poi la raccolta viene rilasciata la ricevuta massima trasparenza questo è molto importante allora torniamo su questi temi dopo la pubblicità tra poco grazie a tutti grazie a tutti